Arrivo di Draghi al governo, applauso da parte di quasi tutti i parlamentari, ovazione nel paese, dei giornalisti e qui vorrei fare una piccola analisi di quello che sta succedendo, vedendo le voci a favore di Draghi e le voci invece che sono piuttosto perplesse nei confronti di Draghi. Cominciamo da una voce molto a favore, quella di Adriana Ceretelli, editorialista di Sole 24 Ore a Bruxelles. Io ho trovato personalmente il discorso di Draghi un bellissimo discorso. Allora, io ho trovato il discorso di Draghi un bellissimo discorso. Nel senso che è stato proiettato sul futuro, ha una visione. Nel senso che è stato proiettato sul futuro, ha una visione. Ha un'idea, ha coinvolto tutte le parti sociali. Ha un'idea, cioè come dire, tutti gli altri governi non avevano né un'idea né una visione. Beh, in effetti forse è così. E anche quelle normalmente trascurate, i giovani. Poi ha coinvolto tutte le parti sociali, anche quelle di solito trascurate come i giovani. che ricorrono diverse volte nel discorso di Draghi. Donne, l'idea per esempio di una nuova scuola. L'idea di una nuova scuola che viene poi analizzata in un'altra, tutta la città ne parla, in cui si vede che la svolta di Draghi nella scuola è la svolta europeista degli istituti superiori tecnici, sorte di università, vere e proprie università, che sono più vicine al mondo del lavoro. Quindi uno spostamento dal mondo umanistico, certamente, dal mondo del mondo accademico classico, al mondo invece della preparazione vera e propria sul lavoro. Il che, quando si sente dire così, sembra una cosa assolutamente ovvia. Una buona cosa, infatti, la buona scuola. La buona scuola perché è giusto preparare i giovani al mondo del lavoro. Il problema è che chi ha distrutto il mondo del lavoro sono proprio i signori di Bruxelles, tra cui Mario Draghi è un esponente tra i principali. di una nuova parità di genere, che sia davvero concreta e non solo fatta a chiacchiere, e poi tutte le altre cose molto concrete. La nuova parità di genere che non sia solo fatta di chiacchiere, stavolta veramente le donne devono avere una parità anche sul mondo del lavoro, ovviamente. Purtroppo il lavoro manca e mancherà sempre di più con le ricette di Draghi, che poi vedrete nella parte successiva, dove analizzerò di più gli aspetti dei pensatori critici, dimostrano chiaramente che Draghi, essendo un neoliberista, uno degli esponenti più accreditati del neoliberismo internazionale, quindi in questo senso un neoliberista di alto profilo, ha in pratica distrutto l'economia italiana, a partire dal 1992, dalla crociera sul Britannia, è sceso dal Britannia, Draghi inizia le privatizzazioni e poi tutto il mondo della cosiddetta austerity. Poi la ritroveremo nella lettera di Draghi, Trichet, al governo italiano nel 2011, una lettera molto precisa che ha dettato l'agenda dei successivi governi fino ad adesso, cioè l'agenda degli uomini di Bruxelles, cioè gli uomini delle grandi banche. Quindi questo entusiasmo si può comprendere, perché l'editorialista del Sole 24 ore è pagata dal giornale di Confindustria. Riguardano lo sviluppo e sono da una parte le riforme senza le quali non ci possono essere investimenti, perché sono anni che noi investiamo i nostri soldi, non quelli europei e non riusciamo a realizzare i progetti per i quali li investiamo proprio per l'acci, l'accioli, impedimenti burocratici, giustizia che non funziona, insomma… Ecco, l'acci, l'accioli, giustizia che non funziona. Le riforme della giustizia chi le ha fatte? Le hanno fatte sempre le pari neoliberisti che volevano una giustizia incatenata, perché per i neoliberisti la giustizia è sempre stata un ostacolo, è un organo di garanzia, è un organo di tutela della Costituzione, quindi tutela del popolo italiano. Ora, per i neoliberisti la Costituzione è un intralcio che va stracciato e che sistema migliore c'è se non quello di impedire praticamente ai magistrati di tutelare la Costituzione, che sarebbe il primo compito dei magistrati. Quindi senza una comprensione di ciò che è successo negli ultimi 30 anni non si può capire niente della situazione italiana e quindi il giornalista della RAI come Rosa Polacco può permettersi di prendere in giro il popolo italiano, i cittadini italiani, sicura che gli italiani non reagiranno, ma fino a quando gli italiani non reagiranno? Ora, io mi chiedo, ma Rosa Polacco è cosciente di quel codice o no? Se non è cosciente è bene che faccia un corso di formazione, si aggiorni, cosa non difficile oggi, ci sono tutti i libri disponibili, tutti i video di cui si... se invece è cosciente, beh, allora Rosa Polacco non può star troppo tranquilla perché prima o poi queste falsità verranno fuori e forse dovrà rispondere in un tribunale. Allora, Rosa Polacco, come ho detto, è una giornalista della RAI e la RAI, come sappiamo, è un servizio pubblico. Il servizio pubblico, secondo la Costituzione, appunto dovrebbe essere un servizio pubblico che dice la verità e che dice la verità su ciò che è più importante. Cioè, i giornalisti cosa servono in un paese se non a dire, a fare la critica della politica, cioè a smascherare nei confronti dei cittadini le falsità della politica. Ora, è evidente che i neoliberisti, quando dicono che stanno facendo il bene del nostro paese, avendo alle spalle 30 anni di riforme neoliberiste che ci hanno portato alla rovina, è evidente che mentono. Ma perché anche la RAI dà spazio a queste menzogne? Ecco, quindi anche la RAI, i dirigenti della RAI, potrebbero essere in qualche modo chiamati a rispondere di questa infamità, cioè di ingannare il popolo italiano. Il servizio pubblico non deve ingannare il popolo italiano, deve dire la verità. Io immagino che molti dei dirigenti, possono essere benissimi in buona fede, ma proprio per questo, a questi punti, per favore mi contattino o contattino chi queste cose le ha studiate e le sa. Vediamo adesso insieme alcuni degli interventi in Parlamento da parte di alcuni parlamentari come Pino Cabras e altri. Cosa dicono del governo Draghi? Sono tutti parlamentari che si sono opposti al governo Draghi. Sentiamo. Partiamo da Pino Cabras. Il governo Draghi è l'autobiografia di una nazione in declino. Draghi è la storia di 30 anni di austerità, decadenza industriale, precariato… Draghi è la storia di 30 anni di austerità, precariato, decadenza… …degnazione, svendite… …privatizzazione, svendite… …lottostrade per la finanza piglia tutto. Il protagonista non del sogno europeo, ma dell'europeismo non reale, un lungo incubo. Ok. Paolo Giulio Dori. Ho ascoltato con attenzione le parole del Presidente Draghi, parole che annunciano una nuova ricostruzione, ma che sanciscono la consacrazione del neoliberismo, dell'Europa a tutti i costi e del primato della finanza sulla vita delle persone. Europeismo, Europa a tutti i costi, predominio della finanza sulle persone. Giovanni Russo. Non voterò la fiducia al governo. Un soggetto politico all'interno del quale un gruppo di pochi ha deciso di sacrificare la comunità e il Parlamento per i propri interessi personali. quindi un gruppo di pochi che ha deciso di tutelare gli interessi personali contro la comunità del popolo italiano. Un no che però ricordi anche chi si aspetta una ricetta diversa per affrontare la crisi rispetto a quella che lei ha scritto nero su bianco nel 2011 quando era Presidente della BCE. Quella lettera era breve ma aveva contenuti molto forti. E qui richiamano la lettera delle BCE del 2011 che aveva contenuti molto forti, che aveva imposto al governo italiano l'agenda che poi tutti i governi neoliberisti hanno seguito a partire dal pareggio di bilancio, fiscal compa e così via. Per uscire alla crisi servivano profonde privatizzazioni dei servizi pubblici per i cittadini, taglio della spesa. Quindi profonde privatizzazioni dei servizi pubblici, sanità, trasporti, scuola, quello serviva per ridare forza all'economia italiana. Taglio degli stipendi, taglio del welfare state. Taglio delle pensioni. Guardi, è stato ascoltato. Dopo quella lettera qualcuno quelle cose le ha fatte. Ebbene, Gianluigi Paragone. Ma nel crinale di una crisi finanziaria, sanitaria e sociale, il neoliberismo produrrà solo l'aumento della disoccupazione. Aumento della disoccupazione. E chiusura della piccola impresa. Chiusura della piccola impresa, aprete le orecchie. Cari amici, piccoli imprenditori, coloro che hanno una piccola bottega, sentite. Il neoliberismo produrrà solo l'aumento della disoccupazione e chiusura della piccola impresa e disperazione con le banche. Ma lei è qui per questo, per completare l'opera di transizione dell'Italia. Lei è qui per questo, per completare l'opera di transizione dell'Italia. Da potenza industriale mondiale a parco di ventimento altrui, perché in Goldman Sachs vi insegnano questo. Lei è qui per chiudere quel processo di svendita, cominciato con le privatizzazioni del Britannia, proseguito con il misterioso trucco dei suoi derivati e con il suo fiscal compact. Lei oggi è qui per consegnare gli italiani al mangiafuoco dei mercati. Si può togliere il cappuccio, Presidente Draghi. Ormai lei è il governatore dell'Italia. E poi sentiamo Andrea Blasca. Lei, Presidente, più di tutti è l'emblema del potere delle eliti finanziarie. È stato tra i principali fautori dell'immensa opera di svendita del patrimonio industriale pubblico italiano. È stato il principale fautore della svendita del patrimonio pubblico italiano. E sono certo che lei sarà coerente con il suo passato. Saranno lacrime e sangue e sempre per gli stessi. Un uomo nato banchiere, cresciuto nei salotti della Goldman Sachs, non può che promuovere una politica economica lesiva delle classi medie e prona a Bruxelles, attenta ai piani alti della finanza internazionale più che al popolo italiano e ai suoi bisogni. Sara Cugnall. Faremo tutto quello che è possibile e necessario per salvare il nostro pianeta, il nostro paese, il nostro popolo e le nostre famiglie dal vostro progetto, per difendere i sogni degli italiani e i nostri diritti naturali di essere liberi dalle vostre paure. Grazie. Adesso passo la parola al testo di Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, un posto iscritto il venerdì 19 febbraio. Bene, Paolo Maddalena lo conoscete tutti, penso che sia il costituzionalista più importante che abbiamo in Italia. Quindi vediamo cosa dice Paolo Maddalena. Come abbiamo sentito nel discorso di Draghi, la parola pubblico non appare neppure una volta, come non appare neppure una volta il nome Costituzione, sui cui principi si fondano i diritti fondamentali dei lavoratori. Draghi ci spinge nel baratro, sta parlando di baratro, perché nella sua mente è svanito del tutto l'insegnamento del suo maestro Federico Caffè. Ed egli è rimasto un convinto neoliberista, convinto neoliberista che vuole la potenza dei ricchi e l'annientamento dei deboli. Ecco, ecco ciò che vogliono i neoliberisti, la potenza dei ricchi e l'annientamento dei deboli. Quindi, quando festeggiate l'avvento di Draghi, sappiate che lui vuole la potenza dei ricchi e l'annientamento dei deboli. Sarà pure convinto, e non sono certo io a negare che egli agisca in buona fede, ma la sua grande intelligenza dovrebbe avvertirlo che si è posto su una strada completamente sbagliata, quello di aiutare i potenti, ai quali egli è molto simpatico, specialmente se si tratta di potenti stranieri, e non difendere il fondamento della Repubblica Italiana, e cioè il lavoro. Quindi, il suo compito non è aiutare i potenti, ma quello di difendere i fondamenti della Repubblica Italiana e del suo lavoro. Lo afferma l'articolo 11, 1, che Draghi non vuole tenere in mente, cioè Draghi, presidente del Consiglio, secondo Paolo Maddalena, il costituzionalista più importante, vice presidente della Corte Costituzionale, ex vice presidente emerito, ricorda a Draghi che esiste l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e la sovranità appartiene al popolo, che l'esercine forma nei limiti della Costituzione. Sorprende e spaventa l'unanime consenso che in Parlamento ha avuto questo suo programma, e mi chiedo che significato ha appoggiare un governo che si dichiara contrario alle proposte che i singoli partiti avevano avanzato. Sì, nel giorno prima, anche qui sarebbe da pietoso velo sui partiti che c'erano prima, insomma, perché sono tutti neoliberisti. Una spiegazione veramente balorda a questo interrogativo l'ha data Matteo Renzi, il quale, dopo essere stato treno sostenitore del MES, diceva lui nell'interesse del popolo italiano, ha poi cambiato idea quando ha visto compiuta la sua opera di destabilizzazione del governo Conte II, e gli ha detto che rinunciava al MES perché il suo MES era Mario e Draghi, una vera e propria confessione. Concludo con le parole di chi ha unito l'Italia nella lingua, il sommo poeta, ai serve Italia di dolore stello, nave senza nocchiero in gran tempesta, nave senza nocchiero in gran tempesta, altro che governo di grande profilo. Adesso ascoltiamo le parole di un grande filosofo, nonostante sia molto giovane ancora, quarantina d'anni, ecco, però ha scritto molti libri sul neoliberismo e quindi è una persona molto competente in questo settore. Sentiamolo. Primo video. Nel suo discorso Mario Draghi ha anzitutto evitato accuratamente ogni possibile riferimento alla Carta Costituzionale Italiana. Eh, cosa dice Maddalena, così dice anche Fusano. Questo è un primo aspetto che non deve sfuggire. Se ha giurato fedeltà, ha giurato fedeltà in quel suo discorso all'Unione Europea e all'Euro. Quindi si ha giurato fedeltà, in questo suo discorso ha giurato fedeltà all'Unione Europea e all'Euro, non alla Costituzione Italiana. È abbastanza chiaro, giusto? Ok. Tre passaggi a tal riguardo meritano di essere sottolineati. In primis, ha sottolineato espressamente che noi siamo legati a filo doppio all'Unione Europea e che quello è il nostro ordine valoriale di riferimento. Quindi noi siamo legati a filo doppio all'Unione Europea e quello è il nostro ordine valoriale di riferimento. Peccato che l'Unione Europea sostiene valori incompatibili con la Costituzione Italiana. Per questo che Draghi, in modo onesto, non la può certamente nominare. Chi parla di successo del governo Draghi, di speranze legate al governo Draghi, di possibilità di redimere la patria offesa... Chi parla di successo del governo Draghi, di speranze del governo Draghi, eccetera... È o profondamente ingenuo o altrettanto profondamente in cattiva fede. È o profondamente ingenuo o altrettanto profondamente in cattiva fede. Come vi ho detto, spero che Rosa Polacco sia la prima delle due condizioni, profondamente ingenuo. Con Draghi si compie un progetto iniziato parecchi anni or sono, direi già nel lontano 1992, a bordo del panfilo britannico. Anche qui Fusaro ritorna sul panfilo britannico. Da lì è iniziato un progetto. Quale progetto? Sul quale peraltro fu presente anche Mario Draghi, benché non fosse poi salpato con il panfilo, ci dicono alcune fonti. Ad ogni modo era presente anche egli. E su quel panfilo, a largo di Ostia, si decisero le sorti dell'Italia, nel momento della ristrutturazione post 1989, degli assetti di forza, a beneficio del blocco liberale che si stava formando. Quindi su quel panfilo si decise quale assetta avrebbe dovuto avere l'Italia in conseguenza della ristrutturazione liberale che si stava avendo in quel periodo. Liberale, intesa come neoliberista, è una ristrutturazione totalmente incostituzionale. Questo va capito, perché vediamo ancora le parole. Avrebbe fatto delle parole d'ordine, liberalizzazione, privatizzazione. Le parole d'ordine sarebbero state liberalizzazione, privatizzazione. Liberalizzazione vuole dire che i servizi pubblici diventano privati, privatizzazione, svendite e così via. Non si dimentichi mai che Mario Draghi non è semplicemente un esperto, un tecnico, come talvolta ingenuamente o anche in questo caso in cattiva fede si dice. Mario Draghi è un uomo di ortodossa fede liberista. È un uomo che risponde pienamente alla visione del mondo che va variamente sotto il nome di liberismo, capitalismo, mercatismo e così via. Quindi non si dica che Mario Draghi non si sa bene quali sono le sue idee. Non lo si dica, perché lui è di sicura fede neoliberista. È un uomo che proviene dalla Goldman Sachs, è un uomo che era a bordo del panfilo Britannia, è un uomo che è stato in un posto niente affatto secondario di rilievo nella Banca Centrale Europea, è un uomo che ha segnalato la propria traiettoria di pensiero e di azione politico-economica nella lettera del 2011 che recava la sua firma e che spiegava a nero su bianco che urgevano per l'Italia riforme, tra virgolette, che poi puntualmente erano contro-riforme se viste dal punto di vista di chi lavora e dei ceti medi. Taglia alla spesa pubblica, privatizzazione, aggiustamenti macroeconomici in senso puntualmente liberista e così via. Io sottoscrivo in sintesi, se mi si chiedesse la domanda leniniana, vastun, che fare, le parole di Varoufakis, già ministro dell'economia in Grecia, mi paiono massimamente sottoscrivibili. Ogni vero patriota democratico deve opporsi a Mario Draghi e al suo governo, non saprei formularla altrimenti. Qualunque cittadino che conosca la Costituzione e sa che è sacro dovere di ogni cittadino difendere la propria patria, dovrebbe sapere che in presenza di Draghi dovrebbe mobilitarsi per difendere la propria patria. Sentiamo adesso il video di un avvocato molto preparato in temi economici e costituzionali, Francesco Carraro. Un primo risultato, sono due mezzogne ovviamente tanto per stare in terra, un primo risultato è quello di far credere che arrivino realmente dei soldi dall'Europa, quindi l'Europa è madre buona. Quindi un primo risultato che si ottiene con questa propaganda è che dall'Europa come madre arrivino dei soldi agli italiani, quindi l'Europa madre buona. E quindi si dice, sentiamo, che ci dà i soldi, ma noi dobbiamo essere bravi a saperli usare, per cui io ho tanti, ma anche nel ceto cosiddetto intellettuale delle persone corte eccetera, tantissimi che effettivamente mi dicono, beh ma cosa c'è di strano se l'Europa pretende un compito per casa? Con tutti i soldi che ci dà è ovvio. Dice, anche nel ceto medio le persone mi dicono, cioè intellettuali anche così, le persone mi dicono, ma cosa c'è di strano che l'Europa regalandoci questi soldi poi ci chieda anche di sponderli, di spenderli in un certo modo. Poi avanti nel video dice, guardate che questi soldi non ci vengono dall'Europa europea, dall'Unione europea specialmente, l'Unione europea semplicemente ce li restituisce, in gran parte, perché all'80-90% li avevamo già versati, prima cosa. Seconda cosa, noi oggi avremmo potuto prendere soldi dai mercati a tasso vicino allo zero, quindi senza dover rispondere a nessuna condizionalità, perché il problema grosso del MES sono proprio le condizionalità. E cosa sono le condizionalità? Sono ulteriori cessioni di sovranità. Cessioni di sovranità nel senso che cediamo sovranità all'Europa. E c'è un passo del discorso di Draghi che questo è molto interessante, perché ci dice, è meno male che cediamo la sovranità all'Europa, perché parteciperemo alla sovranità europea. Ecco, quindi adesso andremo a vedere il discorso di Draghi dove dice queste cose. Ma chi dice così come Presidente del Consiglio dovrebbe sapere che ha fatto una confessione. Ha fatto una confessione pubblica del fatto che lui vuole togliere sovranità all'Italia, cosa che è vietata dalla nostra Costituzione all'articolo 11. 10. Adesso, in posizione di meditazione, godiamoci il discorso di Mario Draghi. Il governo nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore all'Unione Europea e come protagonista dell'Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Quindi, intanto qui c'è da dire una cosa. A difesa delle democrazie occidentali e dei loro principi e irrinunciabili valori. Caro Mario, hai studiato la storia? Hai capito cosa abbiamo fatto noi, democrazie occidentali, con le colonie? In che modo abbiamo ridotto l'Africa? In che modo abbiamo ridotto l'India? Hai letto qualcosa su Gandhi? Hai scoperto che cosa l'economia inglese, l'impero inglese faceva in India? Vattela a ripassare, ecco. Perché tu sei il nostro Presidente del Consiglio, non puoi far finta che queste cose non esistano. Tu sei una persona colta e allora dimostra di esserlo. Non puoi fare discorsi. I principi delle democrazie occidentali sono di fare guerra ai popoli più deboli. Questi sono i principi dell'America, del Washington Consensus, del liberismo, globalizzazione neoliberista. Sono questi i principi. Poi, tu puoi contare sul fatto che le persone ormai, in conseguenza della propaganda neoliberista, non capisce più niente. Le persone sono inebettite, ma sono inebettite da voi. Ma tieni conto che non tutti sono inebettiti. Qualcuno reagirà e qualcuno riuscirà a informare gli altri di come stanno davvero le cose. Proseguo. Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro. Condividere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro. Bagnai il tramonto dell'euro, l'abbiamo letto in tanti. Bagnai, quando ancora era a posto di testa, ci ha spiegato a tutti che l'euro era una maledizione per l'Italia. Ma anche Nino Galloni ce l'ha spiegato e altri economisti. Quindi lo sappiamo cos'è l'euro. Non puoi mentire così. Significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata, che approderà... E sentite, cari parlamentari, li sentiamo i vostri applausi, ma una buona parte di voi sono stati eletti grazie a programmi che erano l'opposto di quello che dice Draghi. Quindi, se avete un po' di memoria, e spero che i vostri elettori ce l'abbiano, ricordatevi che voi sostenetevate l'opposto. Eravate contrari a quest'Unione Europea e a questa follia dell'euro. Quindi state applaudendo a chi vuole affossare l'Italia. Questo i cittadini italiani se lo ricorderanno. ...e più integrata, che approderà un bilancio pubblico comune capace di sostenere i paesi nei periodi di recessione. Abbiamo visto questo che aveva fatto l'Unione Europea con i paesi in difficoltà come la Grecia. Paesi che non erano in difficoltà, ma sono stati messi in difficoltà da persone come te, caro Mario Draghi, i quali, in quei periodi, non hanno emesso quegli 80 miliardi di euro che avrebbero risolto il problema del popolo greco. Messi in difficoltà proprio dalle persone, da te in particolare, che avete condotto la Grecia a entrare nell'Unione Europea mentre non ci doveva entrare. Aveva fatto un referendum e voi invece avete deciso di fare quello che volevate. Gli stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Allora, sentite bene, poi ci fermiamo. Ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Ecco, cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Quale sovranità? Quella che ci viene da Bruxelles e da Francoforte? E' quella la sovranità? Cioè quella delle banche europee? Sì, è quella. Purtroppo è quella. E quindi siete avvertiti, cari cittadini, e anche questa è una confessione. E' una confessione di una violazione palese dell'articolo 11 della Costituzione che prevede limitazioni di sovranità in condizioni di parità ed esclusivamente per motivi che hanno a che fare con la giustizia e pace tra le nazioni e non certo per motivazioni economiche. Motivazioni economiche, queste dell'Unione Europea, che servono a distruggere i diritti dei lavoratori, i diritti ottenuti con 150 anni di lotte sanguinose. Bene, io credo che con questo possiamo fermarci e augurare ogni bene al nostro Presidente del Consiglio che riceva stanotte o domani notte un angelo che lo risvegli. Perché la sua anima non gli fa bene vivere così, non gli fa proprio bene. E non fa bene all'anima di nessuno dei niriveristi vivere così. Io penso che come popolo dobbiamo comprendere e portare dentro di noi la lezione di Gandhi, la lezione non violenza. Noi vogliamo il male di nessuno. Noi sappiamo che se oggi e altri andassero al governo al posto di Draghi non farebbero certo molto meglio. Non farebbero meglio perché la distruzione della mente che ha operato il neoliberismo, il fatto che siano diventati nemici gli uni degli altri, incapaci di aggregazione, non risparmierebbe nessun governo. E questo quindi ci aspetta una grande rivoluzione che è la rivoluzione dell'anima. La rivoluzione dell'anima che non è ostile a nessuna persona, ma è a favore dell'anima di tutti. Di tutti quanti. Grandi, piccini, forti, deboli. Perché i più forti, secondo questa lezione che dovremmo apprendere, devono aiutare i più deboli e non opprimerli come stanno facendo oggi. Auguri a tutti.